Straffactor Straffactor, un piccolo gioiello televisivo, tante novità anche ai live, parola di Daniela Collufoto, video Guai a chi osa criticare Straffactor. Il programma spin-off di X Factor, se così possiamo definirlo, è di fatti un piccolo gioiello televisivo, che si muove sul filo di quella dote bellissima e straordinaria che è l'autoironia. . Ma è come quest'anno, l'intenzione di parodiare il talento originario è evidente nel linguaggio e nel montaggio delle puntate del suo fratello minore, che ha dato spazio persino ai casting e che, in parallelo con X Factor, darà il via ai live. . In giuria, l'ormai immancabile Elio, Iac e La Furia e Drusilla Foer ognuno con la propria squadra, in realtà senza categoria mentre alla conduzione ci sarà Daniela Collu, in arte stazzitta, che dopo l'imbarazzo dei primi tempi sembra sempre a fuoco e perfetta per il ruolo chiamato a interpretare. . 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